ciao a tutti eccoci alla recensione della cover della cosi swan per il samsung a7 che arriva in questa bustina che come sempre non dice un granché le cover della cosi swan non si sventiscono mai sono sempre delle ottime cover e questa serie particolarmente divertente sono molto carine questa è con i cactus e come anche l'altra quella quei gelati hanno gli occhi che se scuoti si agitano allora la la cover è resistente la parte esterna è rigida un po meno rigida devo dire di quella con i gelati quella era un po più rigida la parte laterale invece in silicone morbido come vedete i bottoncini sono morbidi non sono rigidi cosa che apprezzo parecchio e abbiamo sempre i tappetti per l'ingresso delle cuffie e l'ingresso della caricabatterie anche questo è morbido comunque si l'ho fatto provare perché è un regalo per un mio cugino l'ho fatta provare a prestare per fare questa recensione la cover è molto divertente ottima per fare un regalo spiritoso vi ricordo che per i samsung a7 non va in nessun altro tipo di telefono non ci sta assolutamente è antigraffio ed è veramente veramente carina spero che con questa recensione abbiate potuto vedere con i vostri occhi la bellezza delle cover della gorgeous one vi saluto ciao a tutti grazie 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 grazie